L'invecchiamento è un processo fisiologico che avviene con caratteristiche abbastanza ricorrenti nel viso di differenti persone. Quello che ne fa la differenza in realtà è il modo in cui si manifesta. L'azione della gravità è la medesima sui tessuti di ogni viso, il modo in cui le strutture osse del volto e i tessuti molli, la cute, il grasso, il tessuto adiposo del sottocute si comportano nel tempo, sono caratteristici, diciamo così, di ogni persona. Ma ciò che poi noi vediamo e che quindi tendenzialmente vogliamo poi magari correggere, cambiare o comunque mitigare è in realtà diverso da persona a persona. Questo sostiene poi quello che a livello diciamo di discussione, di interlocuzione sociale è il fatto di sentirsi più o meno invecchiati, più o meno a disagio con se stesse e col proprio viso rispetto magari all'amico o all'amica che a parità di età anagrafica non manifesta gli stessi segni e le stesse caratteristiche. Questo fa parte dell'unicità dell'essere umano ma anche di quello che è stato il percorso di vita, ci sono cioè caratteristiche intrinseche e caratteristiche estrinseche che interagiscono per determinare la situazione attuale. Le caratteristiche diciamo che lavorano dall'esterno sono per lo più a carico della cute che è la nostra struttura di barriera, mentre le caratteristiche intrinseche sono proprie di ogni organismo e quindi anche dei ritmi di vita, delle condizioni patologiche che possono comparire nel corso degli anni e non ultimo chiaramente anche di un messaggio genetico che è imprescindibile, esiste in quanto tale. Quindi invecchiamo tutti allo stesso modo ma lo facciamo vedere in maniera unica e individuale, diversa se preferisci. Sì, il viso offre un'opportunità unica perché ad eccezione di alcuni aspetti legati sostanzialmente alla forma del naso e a quella delle orecchie, in realtà ogni atto di medicina e di chirurgia cosiddette estetiche, cioè mirate a un miglioramento e a un ripristino di condizioni di maggior giovinezza e di freschezza del viso, sono in realtà mirate non a cambiare ma a ripristinare qualcosa che era esistente prima. è una prassi abbastanza frequente quella di essere messi di fronte a foto, guardi ero così, guardi mi piacerebbe riassomigliare quantomeno. E in questo oggi la medicina e chirurgia estetica non rappresentano più due entità antitetiche. Una buona medicina estetica consente di considerare l'opportunità o decidere di procedere a un intervento di chirurgia in un tempo molto dilazionato. Per contro, una buona medicina estetica è in grado di accompagnarci per anni nel nostro fisiologico processo di invecchiamento, di maturazione, se preferisce, ma al contempo a un certo punto risulterà essere possibilmente insufficiente, sempre rispetto però alle aspettative e alle richieste che in quel momento sono percepite come stringenti, come pungenti. Esistono delle emozioni e delle pulsioni interne che portano le persone a volersi vedere meglio con se stessi, però esistono anche degli scenari di vita che cambiano e una persona può in un certo periodo, momento della sua vita e quindi anche in una certa età, essere magari sottoposto a una serie di condizioni esterne, di volte magari a un'alta competitività, a volte a una scala di valori particolarmente focalizzata su performance e su ciò che gli altri devono percepire di me, che poi magari muta e nell'arco di dieci anni in cui, per carità, qualche segno si vede comparire sul proprio viso, in realtà fanno apparire questi segni del tutto privi di un significato che dieci anni prima avrebbero magari portato anche a interventi importanti. In entrambi i casi comunque mi piace parlare, ed è qualcosa che cerco di trasmettere ai pazienti come ai colleghi, mi piace parlare di procedure di ringiovanimento. La correzione è qualcosa relativa a mode, relativa a, diciamo così, trend che passano come sono venuti. Un naso un po' più definito, piuttosto che un zigomo un po' più alto, una linea mandibolare un po' più contornata e robusta, piacciono oggi ma nell'arco di qualche tempo possono risultare poi non così attrattive. Il ringiovanimento in quanto tale è tale, non vi sono interpretazioni che possano essere fatte. E anche da un punto di vista tecnico il ringiovanimento si ottiene con certi tipi di terapie, perché di questi si trattano di trattamenti, quelli li lasciamo ad altre categorie professionali che sono preparatissime nel merito, ma dicevo con le nostre terapie opportunamente mirate possiamo ottenere esiti assolutamente di grande soddisfazione, prima per il paziente e poi per noi. Io lo dico sempre, io devo essere sicuro di aver lavorato allo stato dell'arte, ma chi deve essere contento deve essere la persona che si rivolge a me. La medicina estetica ha guadagnato spazio proprio per questa variabilità di scenari. Il fatto di poter oggi magari prendersi cura in maniera importante, con una certa attenzione e dedizione della propria immagine, e quindi con terapie che vengono poi magari ripetute nel tempo, in maniera abbastanza seriata, volte a un mantenimento di un risultato, consente nel momento in cui lo scenario cambia di poter dilazionare i tempi, di poter cessare alcune operatività e rimanere comunque a proprio agio con se stessi. L'intervento è di per sé, di nuovo, un momento che incide in maniera significativa. Ha un bonus di anni a seguire, in cui, se ben eseguito e se ben definito, certamente porta dei risultati stabili, però chiaramente richiede, per essere ripetuto, un certo grado di motivazione. Ancora però mi interessa precisare, non c'è antitesi, non c'è antitesi. Il buon professionista è in grado di consigliare cosa fare, magari di fare entrambe le cose, magari invece no, perché, come ho precisato, oggi bisogna essere competenti nel proprio. Quindi l'interdisciplinarietà è assolutamente una caratteristica moderna della pratica medica, ma per definizione la medicina estetica deve cessare di essere intesa come antitetica, come alternativa, come soluzioni di compromesso rispetto alla chirurgia, perché sono assolutamente due facce della stessa medaglia. Quando si parla di viso e di ringiovanimento del viso. Riguardo al corpo il discorso è un po' più diverso e lo lascio agli specialisti. Io sono un chirurgo maxillo-facciale e di viso mi occupo con piacere e assolutamente sono sufficientemente gratificato da questo. Dicevo, per il corpo sussiste un discorso un po' diverso, ma sul viso questo deve essere l'approccio che le persone che si rivolgono a professionisti seri oggi devono avere. Troppo spesso si sente dire ho fatto questo perché comunque mi era stato spiegato che poteva essere un'alternativa valida. Le alternative vengono discusse, poi diventano scelte terapeutiche, non rimangono tali. E il professionista fa la differenza. Non smetterò mai di dirlo perché è una specie di mantra che ripeto, nessuno è meglio di qualcun altro, non è un concetto di competitività, però oggi in un approccio contemporaneo a tecniche e a terapie che sono estremamente contemporanee perché hanno un tasso di evoluzione e di sviluppo rapidissimo, abbiamo aziende importanti che supportano la ricerca, che supportano la ricerca sia clinica che quella laboratoristica, fornendoci materiali di altissimo pregio tecnologico che ci consentono di alzare tantissimo la sticella dei risultati. Come tale il concetto è certamente quello di avere un interlocutore affidabile, aggiornato e soprattutto critico, obiettivo, che sappia consigliare senza dimenticarsi che in fin dei conti non c'è una scelta di acquisto, ma ci si deve comunque poi affidare a una consulenza di tipo specialistico e come tale recepire delle indicazioni, non comprare delle scelte che qualche volta invece vengono un po' offerte come tale. La chirurgia è per chi ha già fatto un percorso personale, magari anche di interlocuzione con un professionista, e che abbia deciso, e per chi abbia anche una necessità interiore di qualcosa di impattante, di qualcosa che lo renda disposto a un percorso di decorso, perché ricordo sempre che la chirurgia purtroppo non consente le riprese delle attività il giorno dopo, anche se oggi viene spesso millantato il contrario. E quindi dicevo, non è certamente una scelta sbagliata, e è solo il risultato di un percorso che anziché dover essere affrontato, è già stato affrontato, metabolizzato, e opinabilmente con buoni consigli professionali, dato come archiviato. Ecco, il gesto chirurgico di per sé è di grande soddisfazione, consente, assicura una coda di risultato che normalmente si distribuisce sui 5-10 anni a seguire, e quindi stiamo comunque parlando di qualcosa di gratificante, mi permetta, non esclude al 100% la necessità di una buona medicina estetica, che a quel punto però diventa di supporto e di integrazione al mantenimento del buon risultato ottenuto. Se vogliamo scegliere la medicina, per prima intendo dire, ci prepariamo a un cammino insieme che può essere di una certa lunghezza, di una certa durata, per poi arrivare eventualmente, senza vincolo, a un evento che è l'intervento chirurgico. Se la cosa viene invece gestita, approcciata in maniera opposta, si affronta l'intervento, se lo vogliamo vedere in termini figurativi, certamente si affronta un percorso più ripido, più rapido, ma che poi richiede qualche tempo di recupero, e poi la medicina estetica diventa semplicemente un supporto per ottimizzare e prolungare nel tempo il risultato ottenuto con la chirurgia. E questo è comunque un valore aggiunto importante, perché ancora una volta sancisce l'assoluta falsità dell'antitesi tra la medicina e la chirurgia estetica e viceversa. Un buon intervento chirurgico ha un risultato stabile nel tempo che si è ben supportato da magari anche poca medicina estetica. Non è necessario fare grandi cose, però può significativamente aumentare sia la sua durata che la sua qualità. Questo vale per tutti gli interventi, dagli interventi diciamo un po' più frequenti e anche meno impegnativi, quindi magari la chirurgia paltebrale, che nelle statistiche risulta essere sia per uomini che per donne uno degli entry level più graditi, fino alle grosse chirurgie di ringiovanimento total phase, quindi lifting del collo, lifting del viso, lifting della regione del temporale, del sopracciglio, il palpebre, che chiaramente hanno un impatto più significativo, hanno un decorso più significativo in termini di giorni di decorso, in termini di ripresa della socializzazione e in termini anche di impegno personale con se stessi, ma che di nuovo non possono prescindere da dei trattamenti laser per un buon resurfacing cutaneo piuttosto che dall'utilizzo di botulino per comunque mitigare le rughe dinamiche che magari dopo qualche tempo ma ricompaiono assolutamente in maniera uguale a prima perché la chirurgia non è un approccio totale da tutti i punti di vista ed è peccato, qualche volta è davvero peccato lasciare che un risultato così eccellente possa nel tempo guastarsi per dettagli così facilmente affrontabili. Questo è il quadro che oggi la medicina e la chirurgia estetica offrono nelle mani di un professionista preparato per un paziente che, informato, che abbia approfondito, voglia comunque affacciarsi a questo mondo che molto spesso viene così presentato come affascinante e come, se vogliamo, diciamo così, sicuramente degno di curiosità ma che non può fare a meno di un approccio scientifico rigido e rigoroso. Questo non priva dell'emozionalità del rapporto col professionista, non priva dell'emozionalità del risultato che qualche volta mi creda è di gratificazione enorme per chi fa il mio mestiere. Però deve appoggiare per forza su, diciamo così, un approccio scientifico e un approccio serio affinché esigere poi anche il giusto ruolo nel rapporto con i pazienti e che molto spesso poi diventano rapporti di lungo corso e quindi ancora più gratificanti. Ci sono statistiche che vengono aggiornate ogni anno dalle società scientifiche e torno a dire sul viso la rinoplastica che è da sempre nella top three degli interventi richiesti e oggi è un intervento che offre con molteplici tecnici che ha risultati decisamente gradevoli ma comunque volti a un cambiamento. Voglio un naso nuovo, avrò un naso nuovo, diverso, che mi piace di più, che mi fa sentire meglio con me stesso. Gli altri interventi sul viso come ho accennato prima sono normalmente la chirurgia palpebrale quindi di ringiovanimento della regione perioculare dalla blefaroplastica superiore, inferiore con o senza sollevamento del sopracciglio a seguire poi interventi di cosiddetto lifting cioè di sollevamento visto che siamo italiani possiamo parlare italiano cioè di riposizionamento profondo dei tessuti del viso che hanno risultati drammatici in termini di recupero delle fattezze giovanili. Guardate bene sono numericamente molto più impattanti gli interventi o comunque le procedure di medicina estetica che hanno una crescita costante negli ultimi anni a doppia cifra e questo non rappresenta solo un mercato in esplosione dal punto di vista il termine dell'aspetto economico ma anche il segno di una sensibilità che comunque si è strutturata oramai negli individui sia per quel che riguarda gli approcci a delle prime terapie a delle prime interlocuzioni sia per il discorso appena concluso riguardo al mantenimento di interventi più strutturati sul viso sul viso è così naso e orecchie per cambiare ma tutto il resto per ringiovanire mi creda poi possono esserci richieste particolarmente mirate in questi in questi mesi sicuramente le tematiche relative alle forme dell'occhio e alla forma del sopracciglio sono temi particolarmente sentiti però sono un po' più legati a diciamo così un sentire del momento mentre invece mentre invece le tecniche e gli esiti intanto dire i risultati che si possono avere con con interventi di di un certo tipo sono veramente oggi a dei livelli elevatissimi elevatissimi e questo è una cosa che deve essere saputa perché perché si tende sempre a vedere la chirurgia come un extrema razio si tende sempre a vedere una chirurgia come un qualcosa a cui alla fine ci si è dovuti arrendere mentre invece e questo determina magari l'esecuzione dell'intervento in una fase più datata di età con dei tessuti che rispondono meno bene e con un decorso più pesante e la classica frase no beh già devo già farlo e dice non è che debba debba assolutamente però fatto adesso a una certa prospettiva di risultato e di mantenimento di questo stesso rinviato di 5 o 10 anni certamente certamente avrà un altro un altro un altro grado di apprezzabilità incide poi anche l'aspetto sociale l'aspetto umano interumano ed emotivo vogliamo vederci vogliamo star bene con noi stessi e vederci giovani perché ci fa piacere che lo vedano anche gli altri è un movimento dall'interno all'esterno certamente non deve essere il contrario altrimenti l'intervento ha sicuramente da essere ridiscusso ma è bello che questo avvenga quando poi vi sia anche coerenza con risultati che ci consentano di mostrare di recuperare e di condividere tematiche legate alla sicurezza all'autostima in un contesto che sia coerente dicevo ed è per questo che qualche volta consigliare di attendere troppo per certi interventi è una scelta che seppur discussa rischia rischia e dico rischia rischia poi di essere di soddisfazione parziale per contro abbiamo molto fortunatamente una medicina estetica che ci supporta molto e quindi questa potenziale insoddisfazione parziale viene comunque ulteriormente mitigata dal poter intervenire con terapie che sono ambulatoriali che sono di minor impegno anche economico certamente e che quindi completano perfettamente una realtà che mi credo oggi è di grandissimo appeal sia per chi desideri rivolgersi al professionista ma anche per il professionista che se ne occupi mi credo